buongiorno a tutti e benvenuti al decimo capitolo della fiaba del giorno del veronese magazine siamo nel mese di settembre 2020 finalmente viene acclamato da tutte le nostre massime cariche dello stato che si ritorna a scuola in normalità quindi è finito l'incubo della dad quindi è finito l'incubo di questi ragazzi che non hanno più potuto frequentare la scuola e si ritorna quindi alla normalità quindi tutti si fanno grandi applausi si auto acclamano dicendo che bravi che siamo stati si torna a scuola settembre 2020 io nella mia testa ho detto conoscendo come funziona l'ambito pubblico questi durano un mese ho sbagliato di qualche settimana perché a fine già di ottobre inizi di novembre i nostri ragazzi se ne sono tornati tutti a casa e sono tornati tutti a frequentare la dad complimenti bravi vi siete acclamati forse senza averne le vere capacità grazie a domani grazie